Sto pensando al vetro, al vetro d'allumino. Il materiale è fantastico. Quante cose si possono fare con del vetro? Col vetro si può nascondere qualcosa, oppure si può mostrare qualcosa. Penso alla vetrina di un negozio. Con un vetro si può chiudere qualcosa e comportarsi però come se fosse aperto. Puoi persino guardare te stesso. Ma se vogliamo parlare di vetro d'alluminio non dobbiamo stare qui, dobbiamo andare a Madrid, perché c'è Veteco 2010. Signore e signori, è il capitano che parla per annunciarvi che siamo felicemente atterrati a Madrid. E nello specifico siamo felicemente arrivati a Veteco 2010. La fiera è dedicata al vetro, alle finestre in vetro, alle strutture, a ciò che ruota attorno al vetro. E ancora più precisamente siamo arrivati nello stand Memphis, dove abbiamo il piacere di avere di fianco a noi Giacomo Menin, direttore commerciale. A cui subito cominciamo a chiedere qual è il core business di Memphis? La produzione di carte transfer per l'applicazione su superfici di alluminio, tessuto, pelle, finta pelle. Oltre alla fornitura di know-how per i suddetti settori. Com'è strutturata Memphis in Italia e qual è la sua forza produttiva? Su cosa può contare Memphis? Sicuramente su 200 addetti che si prendono cura dei clienti e su una rete di vendita ben strutturata. In quali paesi Memphis esporta la propria produzione, tutto il proprio range di catalogo? Abbastanza complesso rispondere a questa domanda, semplicemente perché ormai possiamo dire che il 70% della produzione viene esportata all'estero e non c'è un'area geografica predominante, bensì esportiamo in quasi tutti i continenti. Benissimo, allora andiamo nello specifico, visto che siamo in Spagna, cerchiamo un po' di vedere quali sono le novità che portate in questa fiera e quali sono i prodotti che viaggiano, sono in viaggio verso il mercato spagnolo. Allora, in particolare in questa fiera presentiamo due grosse novità. La nuova sublimazione, che è un nuovo tipo di sublimazione ottenuta con particolari tecnologie di cui dispone Memphis e la produzione di polveri che inizieremo a fornire assieme alla carta transfer per fornire il pacchetto completo al cliente finale, all'utilizzatore finale. Magnifico, ringraziamo Giacomo Menin, direttore commerciale di Memphis, qui a Roberto Benfenati per Memphis TV Channel, da Veteco 2010, alla prossima.